Antico e Nuovo Testamento, libri senza Dio. Questo è l'ultimissimo lavoro nel quale riprendo ciò che avevo analizzato in La Bibbia non è un libro sacro, lo riprendo ovviamente ampliandolo con moltissimi temi nuovi, ma soprattutto per la prima volta mi occupo anche di Nuovo Testamento, che va ovviamente analizzato alla luce di ciò che viene emergendo dalle analisi che sto conducendo in questi anni sull'Antico Testamento. E quindi se partiamo dal presupposto o dalle ipotesi che qui dentro ci sia, che nella Bibbia sia Antico che Nuovo Testamento, ci sia un Dio inventato, allora la finalità è una, dare la possibilità ai veri cercatori di Dio, cioè non a quelli che hanno bisogno di una verità qualunque, ma ai veri cercatori di Dio la possibilità di trovare il Dio vero liberandosi definitivamente dall'idea di un Dio che è stato falsamente costruito a partire da testi che di Dio non parlano. Grazie. 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 Grazie.